Allora carissimo, sto cercando di risolvere quel problema, ma non ci sono ancora riuscito. Questa è la famosa ruotina, io vado in info account, vediamo, cominciamo, ma anche qua non trovo niente, allora aspetta che metto la passo, ok, e qui ho queste cose che non riesco a modificare, comunque non sono queste, aggiorno informazioni per contattati, aggiorno informazioni per la reimpostazione della passo, non è questo, proviamo questo, ma non è questo, ok, qui sono tutti a posto i parametri, non ci sono le lineette, questo è tutto a posto, allora torniamo indietro, adesso aspetta, scusa ma il mio computer questo che sto usando è molto lento, torniamo ancora indietro, torniamo indietro, ok, allora facciamo un'altra voce, info account, privacy, impostazioni, ok, impostazioni, se ogni tanto c'è qualche errore, ok, e qui questo è giusto, principale è giusto, modifica le informazioni del tuo account, vediamo, oh e ritorno nella stessa pagina non è questa, allora aspetta, qui c'è risposta per assenza, scrivere email, visualizza email, sicurezza, indirizzi bloccati, message, account, modifica la tua password, io account, vediamo, questo è giusto, modifica le informazioni, account, vedi qua non c'è niente, principale questo è giusto, non so, dimmi tu dove devo agire, perché io non trovo nel niente a tal proposito, ti ringrazio, ciao.